Dai 1.500 bicchieri della prima edizione nel 2013, che già non bastarono, ai 15.000 di quest'anno. L'Eviliani Wine Art è cresciuta di 10 volte in 10 anni. L'edizione che si è chiusa domenica notte, per la prima volta estesa su quattro serate, va agli archivi con un'affluenza record di pubblico e un livello di offerta e di spettacolo in continua crescita. Oltre 100 etichette di vini, 12 punti gastronomici, 100 artisti di strada e oltre 12 spazi per le esibizioni. Ma non sono solo i numeri a confermare il successo del Decimo Wine Art, un festival nato per gioco da un gruppo di ragazzi di questo piccolo borgo versiliese sulle Apuane che riesce ad attirare oggi i migliori espositori viti vinicoli e gli artisti emergenti. Adesso il festival è conosciuto, sono gli artisti stessi che si propongono. Per questa decima edizione, spalmata su quattro giorni, abbiamo però voluto riprendere i vecchi amici anche. Quindi cose nuove e rispolverare invece chi ha creduto insieme a noi fin dall'inizio. Musica per tutti i gusti, attrazioni per grandi e piccoli, degustazioni di qualità, guidate e non. Tutto ciò ha portato l'evento a crescere, portando flotte di visitatori dalla costa e da fuori regione. Posso dire che la novità più clamorosa ovviamente di questa decima edizione è il quarto giorno, quindi abbiamo aggiunto giovedì, che per noi insomma non è banale, perché vuol dire mettere in moto una macchina che coinvolge 70-80 persone ogni sera in turnazione. Noi insieme riusciamo a fare cose anche impensabili e quindi questo è il segreto degli Evigliani. Dei ragazzi che lanciano un'idea e la comunità si stringe attorno ai ragazzi per far realizzare questo sogno che l'abbiamo realizzato. Noi insieme a tutti i gusti, attraversi come un'idea e la comunità si stringe attraversi come un'idea e la comunità.